X35 full cell con alimentazione a idrogeno è una realtà europea, una realtà che si è fatta strada e si sta facendo strada in numerose città europee dove la sensibilità ecologica è decisamente maggiore che in altre città del continente come Copenaghen, come Aberdeen, come Francoforte. In questo caso a Stresa vi è stata una anteprima italiana dove potremo vedere anche sulle strade italiane in un futuro non troppo lontano qualche esemplare di X35 con un 5 full cell alimentato a idrogeno. Oggi siamo in Lago Maggiore e stiamo testando un'auto che sembra di essere un Hyundai X35 ma in realtà è un'auto molto speciale e qui c'è un ingegnere Hyundai che ci dirà e allora, come questo X35 è così speciale? questo X35 è un'auto più speciale come commerciale X35 ma questo è un'auto più cello e il pure cello può fare l'elektricità di combinare l'autodigione e l'oxidione. Quindi non è l'emissione, solo che ci sono fissi di acqua. La velocità è 160 km per l'h, e la velocità è circa 600 km per l'estandard della nuova europea. e poi possiamo guardare il 5.64 kg di 500 bar e ora possiamo usare questo caro come commercial vehicle e Hyundai ha il plan di fare più cari per questo carico in Moosan planta come commercial vehicle quindi lo vedrai nel futuro, nel mondo e sto drivingando questo caro e posso dire che è quasi la stessa cosa per una normale X35 solo perché è molto quieto, non c'è nessun sonno dell'engino quindi è molto più comforzato e anche noi hai detto che il range è di 600 km quindi questo caro non ha la stessa probleme con il range dell'elettrico e questo caro che necessita molti ore per charge la batteria questo caro è davvero incredibile questo caro è tutto il futuro è di oggi sì, credo che possiamo fiume di fiume in 5 minuti ma solo 5 minuti quindi è molto più sentire sì grazie grazie grazie